Siamo qui con Mino Cavio, uno dei più grandi doppiatori del panorama italiano. Sono tantissimi personaggi di film, serie televisive, soprattutto cartoni animati doppiati da Mino. Se possiamo citare i più famosi diremmo C3PO di alcuni capitoli della serie di Vodestellari, Kermit Larrama e alcuni capitoli di Muppets e ovviamente Peter Griffin. Mino nasce non tanto come doppiatore, ha un gran passato nell'ambito della giurisprudenza, all'oreato alla Sapienza, appunto, in questo campo del diritto. Diventa poi professore di licei e all'università di diritto. Ma, Mino, quando è che hai capito che la dava voce è fatta più per il doppiaggio che per l'aula di tribunale e l'aula di scuola? Ma forse da ammiratore degli attori doppiatori è sempre bene precisare attori barra doppiatori, perché il doppiatore è anche un attore. Io mi ricordo che alle scuole medie, oltre che ammirare quegli sceneggiati in tv, quindi sto parlando di recitazione, di prosa, che venivano trasmessi in Rai, c'era proprio una serata particolare della settimana dedicata a questi sceneggiati, e io mi innamorai, oltre che degli attori, anche delle voci interpretative del doppiaggio. Quindi vi parlo di film ormai antichi, insomma, dei primi anni Sessanta. Vive nella mia memoria Parigi e Brucia, per esempio, che contemplava attori straordinari sia americani che soprattutto francesi, e mi ero innamorato, ripeto, di queste interpretazioni, perché non sono solo voci, e non erano voci. Sono stati un po' i miei maestri da fruitore, da amante, ammiratore del doppiaggio, quindi non possono ricordare Peppino Rinaldi, Bruno Persa, Emilio Cigoli, Gualtiero De Angelis, Pino Locchi, Cesare Barbetti, Massimo Turci, e dall'altro, dal versante femminile, Rita Savagnone, Maria Pia di Mero, ancora la più antica Lidia Simoneschi, Vittoria Feddi, eccetera, eccetera. Questi nomi hanno costituito per me un grande stile. E' una tala base portante? Senza dubbio. Io li considero i maestri, i maestri in senso assoluto. Anche perché se io oggi doppio e ho dei riconoscimenti, lo dico con molta comiltà, nei riguardi di Peter Griffin, Peter Griffin probabilmente si è formato grazie a un approfondimento inconscio dell'imitazione, del doppiaggio di Jerry Lewis, fatto da Carlo Romano. Per cui se Carlo Romano, che so, doppiava Jerry Lewis in una frase che poteva essere «Oh, salve ragazzi, quando sono letto mia madre non c'era». Ecco, e da lì poi nasce anche Peter Griffin, che insomma è un grassocio americano e parla in questo modo, con la sua risata che è tipica e quella è tipica sua, per carità. Però in sostanza, se non ci fossero stati i nostri maestri, che sono stati i primi, ma noi non esisteremmo. Certamente. Tu appunto hai tantissimi anni nella carriera del doppiaggio. Quanto è importante, soprattutto per noi italiani che abbiamo una granita dizione di doppiaggio, che va ad esempio da Terruccianendola, per esempio i recenti Torino Accolla, Luca Ward, Pininsegno, dare un'anima ai personaggi che siano a doppiare, che siano di piattone in mati, che siano i personaggi di film. Quanto è importante dargli un'anima tramite la voce? Questo dipende anche dalla sensibilità di ciascuno di noi. Senza dubbio noi dobbiamo essere a servizio di ciò che vediamo sul grande schermo e sul piccolo schermo. Poi se c'è qualche cosa che possa filtrare attraverso la nostra personalità, ben venga. Altrimenti sarebbe un doppiaggio un po' così, stereotipato, un po' piatto. E quindi ognuno di noi dà il proprio gusto, estetico, per cui vediamo l'intonazione, l'abbiamo in determinato modo, pur rispettando i canoni dell'attore. Esattamente, la gente. E tu oggi, qui all'altro spazio di Vietiburno, insegnerai in una piccola lezione l'importanza della modulazione della voce. Quanto è importante modulare la voce, ad esempio, per Peter Griffin? L'abbiamo citato. Come si può modulare la voce di Peter? Sì, tu vedi una persona, come ripeto, abbastanza, insomma, romusta, no? E che ti viene in mente? La direttrice di doppiaggio di allora, che continua ad essere, con la Doris Scaccianoce, mi disse, c'era un fermo immagine, ecco, Nino, questo è il personaggio di questo doppiaggio. Tra l'altro lei non fece alcun provino, ci distribuì, da molle. E devo dire che, non parlo di me, ma dei miei colleghi, ci è riuscita benissimo. In sostanza, ecco, vedo questo signorotto egoista, ossessivo, un po' manifreghista, dissacrante, dileggiante, con gli occhialini, capello, insomma, non lungo, camicia bianca rotolata, pantaloni verdi. Insomma, mi è sembrato giusto di farlo un po' così. Poi santuccio, come si dovrebbe doppiare uno un po' crassocio. Ecco, certamente, è enfaticamente, è ovvio. E quindi, ecco, io ho dato un pochino di mia personalità. Perché invece il doppiaggio originale di Seth Merfalle è invece molto più brato, molto più rispetto alla mia. Io ho rispettato soltanto la risata. Ecco, per sì, perché diventa una cifra, insomma. Esattamente. Invece, per esempio, per la voce di Kermit Rana, un altro messaggio tuo? Eh, Kermit Rana, ci sono dei diktat americani, per cui da un certo punto in poi bisognava fare dei provvini rispetto agli antichi doppiatori della serie che, insomma, avrebbe successo già da noi già nel 60, ecco. E quindi, diciamo, un prodotto imitativo, bisogna adottare un po' di dolcezza, come è chiaro nelle chiari e nelle note di questo personaggio, assolutamente dedicato al poetico, e a me piace molto sentire lo dire. Abbiamo già citato molti dei tuoi personaggi che hai doppiato, comunque si ricorda, con Tornino, Citerpio, c'era un personaggio di quelli che hai doppiato, per cui me ne si è riconosciuto e qui non hai avuto, non si è stato considerato il doppiatore di quel personaggio? Vabbè, insomma... Ma tu sei particolarmente attenzionato? Ecco, ma c'è un doppiato in presenza? Sì, che è doppiato in passato e ti spiega che la gente non si torna soprattutto nel quello. Ma forse John Turturro, che mi è capitato di farlo in due film, anche lo stesso Daniel Day-Lewis, che iniziò con me, perché io iniziai con lui, in Camera con vista e in Beautiful Love, e poi, sai, le dinamiche del doppiaggio sono anomale, atipiche e per cui dipendeva anche molto dalle società nelle quali c'erano degli attori soci, doppiattori soci, quindi, in un'altra andavano avanti loro. Io, essendo stato sempre un doppiattore libero, sai, magari sono stato penalizzato sotto questo punto di vista. Però ecco, Daniel Day-Lewis mi sarebbe piaciuto, perché è sempre poi molto variegato, con un altro che non ho mai doppiato, ma che l'ha doppiato spremiutamente, che ha rovalli, sarebbe stato proprio lui. Perfetto, adesso lasciamo Mino appunto a questa lezione, che doveva tenere l'altro spazio in Medipurno, e ringrazio per l'intervista. Grazie a voi. Subito dopo l'intervista rilasciata ai nostri microfoni, Mino Caprio ha tenuto un seminario sull'importanza dell'efficacia e del lavoro sulla voce al giovanissimo pubblico presente al Musical Power Camp, tenuto e organizzato da Enrico D'Amore. ...però scherzato già con la voce, non mi riesceva giocare con la voce e cercare anche di imitare. Perché lui deve essere un po' altro parlare in questo modo, e cantare, oltre a mettere in questo modo, o non c'è un po' altro musico. E come è quello che vorresti? Che voce vorresti? Adesso, visto che è una cultura abbastanza, insomma, robusta, che è un po' altro termine, non è un termine mistico, perché è abbastanza il rassorcio, ma pensiando che quando noi grassi, magari, se in realtà di fare niente, se in realtà di sapere di un perturba, l'ho fatto diverso da Sérgio, che ha una voce sua profonda nel doppiare il titolo. Io l'ho fatto un po' così, lasciando arrivare a cerine di guerra, che disse la sensazione di una pesantezza, una pesantezza, però, è il serio, è il grande. Ho rispettato una risata, perché la risata fa parte, diciamo, della comicità di questo personaggio, eeeh, sono gli artisti, eeeh, sono gli artisti, sono gli artisti. Ok, grazie. Grazie.